Come si passa dalla comprensione del testo, comprensione delle informazioni che studiamo, alla memorizzazione, alla capacità di ricordare tali informazioni? È uno step fondamentale per apprendere e che ci fa capire se abbiamo studiato effettivamente nel modo corretto. C'è una strategia pratica che vedremo insieme nel video di oggi, ma prima di farlo voglio ricordarti che puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari e lo puoi fare attraverso il link che trovi qui sotto in descrizione. La procedura è facilissima, devi inserire e risolvere il tuo nome e la tua mail. Proprio nella mail poi via via riceverai tutti i contenuti del corso. È gratuito, sicuramente ti può dare una mano e ti può aiutare e quindi ti invito a provarlo e sicuramente non te repentirai. Tornando invece all'argomento del video di oggi, vediamo insieme la sigla e poi ti faccio capire come si passa dalla comprensione delle informazioni alla memorizzazione e alla capacità di ricordare quest'ultima. Vediamo quindi insieme quando studi un testo che cosa devi fare per passare dal capire al memorizzare, cioè dalla comprensione del testo alla memorizzazione, quindi la possibilità, anzi la capacità di sviluppare, la capacità di ricordare le informazioni anche dopo molto tempo, che poi sostanzialmente è quello che ci serve per superare gli esami. C'è una regola fondamentale che voglio chiarire proprio all'inizio e che grazie alla quale sarà più facile, puoi seguire tutto il video e tutte le spiegazioni. Memorizzare qualcosa che non hai compreso, quindi che non hai capito, è del tutto inutile. Quindi se non riesci a capire qualcosa che stai memorizzando, che hai memorizzato, è come se quell'informazione l'avessi incollata senza appunto aver pesato il valore, il significato di quest'ultima. Ti dico di fare attenzione a questa regola perché, numero uno, la comprensione deve avvenire prima della memorizzazione. Diciamo che mette le basi per memorizzare e ricordare correttamente, ma al tempo stesso quando ci troviamo all'esame e magari sappiamo rispondere inizialmente a una domanda perché ricordiamo la risposta, ma non abbiamo capito il significato del concetto o dei concetti che stiamo proponendo, se dovessimo appunto spiegare questo qualcosa non ci riusciremmo. Appunto perché c'è la memorizzazione, quella è andata a buon fine, ma non c'è la comprensione, quindi non abbiamo capito il testo come si deve. Quindi questa è la prima regola che dobbiamo chiarire proprio prima di iniziare. Adesso possiamo dividere in due parti il processo di studio. Prima ovviamente parleremo di comprensione e successivamente, come vedi, la freccia poi ci porterà alla memorizzazione del testo. Non mi baserò su un testo in particolare, ma sul meccanismo che devi seguire, sulla procedura che devi seguire. Allora, la comprensione sostanzialmente parte da un primo e un secondo step. Il primo è quello della lettura del testo. Ovviamente per poter capire un testo devi leggerlo. Quante volte non c'è una risposta assoluta e valida in tutti i casi. Se un testo è molto semplice o sai già di cosa stiamo parlando perché magari sono informazioni che hai affrontato in passato, allora probabilmente anche una sola lettura è sufficiente. In caso contrario, più difficile il testo e meno conosci quelle informazioni, tanto maggiore sarà il numero di letture che serviranno per riuscire a comprendere le informazioni. Per facilitare questo processo di comprensione devi selezionare le informazioni realmente interessanti, in un certo senso, quindi quelle che davvero ti aiuteranno a non solo poi memorizzare le informazioni, ma proprio a capire quali sono i concetti importanti, quali sono le definizioni importanti, se ci sono degli esempi che spiegano i due concetti, eventuali concetti secondari, terziari, dettagli e così via. Quindi in un certo senso selezioniamo le informazioni, diamo un ordine e questo ci permette di comprendere appunto gli argomenti. Questa è la prima cosa che devi fare. Questa è la base per poter memorizzare le informazioni e proprio attraverso le letture, la selezione delle informazioni, non facciamo altro che comprendere l'argomento come strutturato e quindi comprenderne i significati. Fatto questo possiamo passare all'altra parte del video, la memorizzazione. Ora come vedi, se hai notato nel caso della comprensione c'è un passaggio lineare della prima alla seconda fase, invece la memorizzazione è come se fosse un ciclo. In che senso? Devi immaginare di utilizzare ovviamente più tecniche, perché se utilizzi più tecniche è più facile riuscire a memorizzare le informazioni. È come se vedessi un stesso elemento da più prospettive con strumenti diversi. Inevitabilmente sarà più facile gestirlo, quindi in questo caso memorizzare delle informazioni. Ora le tecniche che ti propongo sono tre. La ripetizione, la creazione di schemi o mappe più o meno complessi e la ricerca attiva, se non proprio la creazione, di collegamenti tra le informazioni. Queste tecniche che utilizzi in un certo senso creano un circolo virtuoso, perché inizi magari a ripetere le informazioni una prima volta, per come le ricordi, senza sbirgere nel libro, ovviamente da tante cose non le ricorderai, ma va bene così. Magari, proprio per aiutarti, crei uno schema. Ecco che passiamo da una prima tecnica a una seconda tecnica. Questo schema ti permetterà di notare dei collegamenti. Questi collegamenti, quindi stiamo passando già al terzo elemento, ti permettono di consolidare l'apporto tra le informazioni, proprio per come avevi fatto nella fase della comprensione, con la selezione delle informazioni. Quando poi tornerai a ripetere, ecco che il ciclo continua, sarai molto più bravo o più brava, perché hai creato con gli schemi e i collegamenti sono migliori. A questo punto puoi tornare sugli schemi per andare a controllare se hai detto tutto, questo ti farà ricordare ancora meglio i collegamenti, la ripetizione successiva sarà ancora più efficace e completa, e quindi come vedi è un circolo virtuoso, che di volta in volta ti permette di memorizzare le informazioni, perché torni su queste senza perdere quello che hai fatto finora. Quindi questo è il processo, che ti permette di passare dalla comprensione del testo, che è una prima fase, un primo step, alla memorizzazione di quest'ultimo. Questo è quello che ti voglio proporre nel video di oggi, ma se hai domande e dubbi, non farti problemi a scrivere nella sezione dei commenti, sarò contento di poterti aiutare. Io ti ricordo che attraverso il link che trovo in descrizione, puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. Ti ringrazio per il tuo tempo, per la tua attenzione, e ti aspetto con molto piacere nel video che uscirà domani. Grazie. 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 Grazie.